ciao a tutti oggi vi mostro il contenuto di questa bellissima box christmas box dell'azienda global d'orciari apriamo insieme il contenuto di questo pacco ed ecco qui all'interno vedete com'è bello un buonissimo torrone nocciolato gianduia un panettone dei cioccolatini e questa buonissima crema spalmabile alla nocciola ecco il contenuto vedete panettone al cioccolato all'italizzazione naturale dei buonissimi cioccolatini crema spalmabile alla nocciola e questo buonissimo nocciolato gianduia una bellissima confezione regalo christmas box dell'azienda global dolciaria mettendo il codice nadia blogger avrete il 10 per cento di sconto